Abbiamo testato le lova del lago sui sentieri dell'Appennino in una tipica giornata autunnale caratterizzata da terreno umido e temperature mutevoli. Abbiamo camminato su un tratto dell'alta via dei Monti Liguri, un trekking a tappe che attraversa Liguria da Levante a Ponente. All'inizio del percorso abbiamo camminato su prati umidi e aree fangose, su un fondo molto instabile e scivoloso che ha messo alla prova la stabilità di queste calzature. Questo tratto di alta via ci ha permesso di testare a fondo le qualità costruttive delle lova del lago e il grip delle suole Vibram. Abbiamo infatti affrontato salite e discese, tratti di roccia sconnessa e terreni fangosi, ma nonostante ciò ci siamo sentiti sempre sicuri. Le salite impegnative alternate alle ripide discese hanno messo a dura prova il piede, ma grazie alla calzata estremamente confortevole offerta da questo modello non abbiamo mai percepito fastidi o dolori. Le del lago infatti si adattano a diverse tipologie di percorsi, un bel vantaggio per trekker ed escursionisti che possono così ridurre il numero di calzature nella propria scarpiera. Il nostro test ci ha portato a camminare anche su una pietraia, un fondo che ci ha fatto apprezzare la grande stabilità offerta da queste scarpe, sempre sicure e confortevoli. Inoltre i rinforzi anteriori e posteriori delle lova del lago hanno protetto il piede dai frequenti urti con rocce appuntite e sporgenze. Nella parte finale della nostra escursione abbiamo lasciato i carinali appenninici per addentrarci nei fitti boschi di faggio, dove abbiamo ammirato i colori del fogliaggio autunnale. Il sentiero si presentava coperto da un fitto tappeto di foglie bagnate. Un fondo decisamente scivoloso e reso complicato anche da diversi ostacoli che abbiamo dovuto superare per seguire il tracciato dell'itinerario. In questa fase si è rivelato prezioso il disegno delle suole, che hanno mantenuto sempre sicura la presa su ogni superficie. L'itinerario è stato piuttosto complicato e faticoso, ma nonostante lo sforzo il piede dentro la scarpa è rimasto sempre asciutto. La membrana in Gore-Tex infatti ha tenuto fuori l'umidità, ma al tempo stesso ha perfettamente smaltito il calore generato dalla camminata. Le lova del lago GTX si sono dimostrate scarpe davvero versatili e in grado di affrontare ogni tipo di terreno. Calzature duttili, innovative e dinamiche, adatte a numerose attività outdoor, un jolly per affrontare ogni esperienza all'aria aperta.